E' stata denominata Gallico l'operazione condotta da polizie e carabinieri insieme nel territorio di Reggio Calabria. L'indagine si riferisce al quartiere alla periferia nord di Reggio e riguarda l'esecuzione di due ordinanze cautelari nei confronti di 18 persone, di cui 16 in carcere, una agli arresti domiciliari ed un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emesse dal GIP su richiesta della Didia Regina. Nell'inchiesta, coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri insieme all'aggiunto Walter Ignazitto, sono contestati vari reati, tra cui associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, detenzione illegale di armi ed intestazione fittizia di beni. Gli indagati al momento sono 40.